Buonasera ragazzi, buonasera a tutti ragazzi, voglio far sentire, comunque ascoltare la canzone di Rosario Miraggio una vecchissima canzone che voi forse ve la ricordate, qua voglio un milione di mi piace perché questa canzone mi piace troppo una canzone vecchissima, non so se voi ve la ricordate, una canzone vecchissima di Rosario Miraggio che ora ve la farò sentire, io canto il microfono, non lo prendo perché il mio microfono è scarico non so più dove ho messo i carichi la batteria, però ve la canto così, senza la voce, però con la voce di Rosario Miraggio e più mai, che la Rosario Miraggio sa lo canta, è no, perché ragazzi io non sono uno che se la prende non sono uno che sa pens, io l'ho fatto un video per Noemi, spero che con tutto il cuore si svegli e ritornerà a camminare, e ritornerà a vivere, perché noi vogliamo questo, che noi vogliamo che Noemi sia bene e che si sveglierà, perché Noemi è una bambina bellissima e non voglio che deve morire ora, che ha tutta la vita davanti, Noemi, io ti faccio un bocca al lupo, esci da quel maledetto a svelare e vai a divertire, bene? ora ragazzi, vado a ascoltare questa vecchissima canzone di La Sola di Lancio che ora ve la farò ascoltare, si chiama, e si chiama, però non ve lo dico, perché qua dove non so se vuoi me la ricordare, ma ve la faccio ascoltare con il sesso vai sarà meglio lasciarti con la testa a suo pezzo rimanendo vestiti, forse è meglio così evitiamo stasera di finire nel letto si rimane fruto, ma che sfizia c'è sta faccio un po' di uccidio e non so se vuoi mi la che sfizia c'è sta faccio un po' di più si rimane fruto, ma che sfizia c'è da dov'accio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.